ciao a tutti bentrovati se siete nuovi nel mio canale benvenuti sono natasha e questo è witchcraft 80 oggi parliamo sempre facciamo sempre un progetto con la centro 48 aghi e parliamo di quando e come utilizzare il filato di scarto per iniziare e finire un progetto intanto va detto che il filato di scarto si usa lì dove si vuole un prodotto finito che ha un lato dritto oppure quando si lavora su pannelli oggi faremo uno scaldorecchie di questo tipo qui questo è appunto un tubo a questo specifico scaldore che è stato fatto sulla 40 aghi quindi quello che faremo oggi sarà molto simile leggermente più largo e si ottiene questo tipo di chiusura qui appunto chiudendo entrambi i lati in maniera dritta e per appunto fare ciò ci serve di iniziare e finire il progetto con il filato di scarto allora intanto si determina quali filati si vogliono utilizzare per il progetto si vogliono utilizzare per il progetto io oggi utilizzerò questo filato qui che è un 4 mm credo è un 4 mm questo anche sono un rosa salmone e nero quindi una volta che io ho determinato intanto i filati che voglio utilizzare per il progetto poi bisogna determinare che tipo di fantasia applicare quindi io ho deciso che voglio fare l'inizio e fine lavoro con il nero e la parte centrale con questo rosa salmone quindi una volta che io so con quale colore il progetto effettivo inizia devo scegliere come filato di scarto un colore a contrasto quindi un qualcosa che si vede subito quindi in questo caso se io inizio il progetto effettivo con il nero il mio filato di scarto sarà un bianco sarà un grigio sarà un colore chiaro di contrasto quindi cominciamo intanto a ad applicare il filato di scarto questo caso prendo il bianco e l'inizio del progetto cioè del progetto l'inizio appunto la fondamenta per iniziare a lavorare su una macchina è la stessa che abbiamo visto nel video precedente quindi si pone il filato davanti al primo ago che per me io identifico come primo ago lago il colore diverso da il resto il filato è davanti e sotto l'uncino poi inizia a girare lentamente e lentamente porto il filato dietro al secondo ago davanti e sotto l'uncino del terzo dietro al quarto davanti e sotto l'uncino del quinto e via dicendo alternando gli aghi per tutto il giro ricordatevi dovete sempre finire dietro l'ultimo ago quindi infiliamo il filato di scarto nella guida e cominciamo a girare normalmente quando vi imbattete in istruzioni scritte di un progetto o anche alcuni video tutorial può succedere che non venga specificato il numero di giri per il filato di scarto ma che venga semplicemente detto che va utilizzato questo perché non c'è un numero di giri specifico però si consiglia sempre di farne almeno 10 quello vi dà il giusto spessore per la lana di scarto per lavorare poi il progetto lo vedrete dopo però è diciamo è il quantitativo comodo per la lana di scarto iniziamo a girare facciamo 10 giri in questo caso non ci interessa possiamo anche montare il primo giro di fondamenta all'interno dei 10 giri che faremo che non è importante iniziamo a girare facciamo 10 giri in questo caso non ci interessa e mi raccomando finite sempre alla fine proprio del giro quindi ritornate sempre poi all'ago numero 1 questo è il mio ultimo giro per la lana di scarto quando arrivo qui taglio il filato se è ancora attaccato a un gomitolo diciamo e inserisco la codena al centro quindi fra l'ultimo ago e il primo ora andiamo a prendere il filato del progetto vi faccio una premessa c'è un trucchetto che è possibile utilizzare per facilitare la rimozione del filato di scarto e quello ve lo faccio vedere dopo lo potete utilizzare sia in questo momento sia dopo entrambi i casi è un trucchetto comodo e il trucchetto praticamente implica l'utilizzo di un terzo filato che fa un giro solo ed è un filato diciamo di rilascio quindi tirando quel filato lì si crea un distaccamento del filato di scarto senza farlo però lo faccio vedere dopo così vediamo le due differenze quindi quando iniziamo il progetto inseriamo la coda del progetto all'interno i progetti normalmente le istruzioni vi indicano se serve una coda più o meno lunga poi lo imparerete anche un po' con la pratica in base a quello che volete creare in questo caso qui possiamo lasciare una coda relativamente lunga o all'inizio o alla fine e questo ci aiuta poi a cucire insieme i due lati non è obbligatorio ovviamente la cucitura, l'assemblamento del progetto può essere fatto con un filato che non è parte della coda a questo punto resettiamo il contatore ora per fare questo progetto, questo scaldaorecchie per adulti faremo un totale di 95 giri dove saranno 10 giri di nero poi ci saranno 75 giri di salmone e altri 10 giri di nero poi ve lo metterò qui in schermata così avete un riferimento quindi il contatore è zerato il filato del progetto, quindi il mio filo nero è all'interno ed è a fianco alla coda del filato di scarto cominciamo a girare questa tecnica, questo progetto ci sta insegnando due tecniche appunto l'utilizzo del filato di scarto ma anche il cambio del colore è un'interno Ok, abbiamo fatto i nostri 10 giri, ora è il momento di cambiare colore, quindi si taglia il filato dal gomitolo, si inserisce la coda sempre fra l'ultimo e il primo ago, si prende il nuovo filato, lo si inserisce nella guida, lo si inserisce nel tensionatore e la coda va sempre accanto a quella precedente. A questo punto qui, come vi torna più comodo, potete riresettare il contatore, quindi contare i 75 giri centrali del progetto, o continuate semplicemente aggiungendo, quindi nel mio caso io il contatore non lo tocco, so che devo fare i 75 giri di salmone, quello mi porta a un totale di 85. Ora, prima di continuare, abbiamo fatto già un primo giro con il nuovo colore. I due capi dei due colori del mio progetto non sono ancora uniti assieme, quindi questo crea un buco qui, ok? I due capi vanno annodati assieme, potete farlo adesso sulla macchina, come faccio io, o lo potete fare a fine lavoro, l'importante è farlo. A me piace farlo sulla macchina dopo un primo giro, perché bisogna intanto stringere i nodi abbastanza forti, però se lo facciamo sulla macchina, la macchina ci dà già una barriera oltre la quale il nodo non può andare, quindi mantiene costante la forma dei vari punti che abbiamo fatto. Se lo fate fuori dalla macchina, dovete fare attenzione a non stringere troppo, ma non stringere neanche troppo poco. Tagliate poi l'eccesso delle due codine, e possiamo continuare a fare i nostri 75 giri. Ci rivediamo al prossimo cambio colore. Ok. 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 Grazie. Grazie. Ok, abbiamo fatto i nostri 75 giri di color salmone e ovviamente per me, che io non ho resettato al contatore, mi ha portato ad un totale di 85, quindi 10 giri di nero più i 75 di salmone. Ora andiamo a ricambiare colore. Quindi come al solito tagliamo il filato, lo inseriamo all'interno fra l'ultimo e il primo ago, riprendiamo il nero, anche qui lo inseriamo nella guida, nel tensionatore e facciamo in modo che le code sienano una accanto all'altra fra l'ultimo ago e il primo. E continuiamo a girare per altri 10 giri, per un totale di 95. Rifaccio il primo giro e metto un nodo. Mi piace fare un doppio nodo per sicurezza. Mi raccomando, stringete, ma non troppo forte che poi rompete il filo. Ok. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Alla fine del nostro ultimo giro del progetto, quindi abbiamo un totale di 95. Dobbiamo adesso appunto tagliare il filo dal gomitolo, inserendolo all'interno del progetto, così al solito, fra l'ultimo e il primo ago. E ora dobbiamo ritornare a fare un 10 giri di filato di scarto, che ci permetteranno di togliere poi il progetto dalla macchina. E se vi ricordate, vi ho anticipato prima che vi faccio vedere un trucchetto, che è un filo di rilascio per il filato di scarto. Ora a noi serve un colore che sia di contrasto con quello con cui abbiamo finito il progetto, quindi nel mio caso il nero, e quello che io vado ad utilizzare come filato di scarto. Quindi io utilizzo il bianco come filato di scarto e mi serve un terzo colore che sia di contrasto ai due. Vediamo cosa trovo. Abbiamo un bel rosso, quindi io in questo caso anche meglio, così lo si vede veramente bene. Utilizzo il rosso per farvi vedere il trucchetto. Quindi inserisco il rosso qui. Faccio un giro solo. Quindi faccio un giro solo, inserisco la coda anche qua tra l'ultimo e il primo. e poi mi prendo il filato di scarto per completare il tutto. E'ταιrino! Whist 남ale! So. E' tutto questo! ora io non avendo molto di bianco adesso alla fine io non sto neanche contando quanti giri io lo userò tutto perché è inutile tagliarlo e averne ancora meno a disposizione quindi utilizzo quello che ho se doveste voi avere invece il filato che viene fuori da un gomitolo ovviamente fate 10 giri e poi tagliate il bello del filato di scarto alla fine del progetto è che voi continuate a girare fino a che il progetto non cade da solo dalla macchina questo significa che non è importante dove il vostro filato finisce quindi nel mio caso che io volevo utilizzare tutto quello che avevo a disposizione di bianco girando come vedete il mio filato sta finendo prima della fine del giro se riesco a farvelo vedere bene quindi eccolo io sto finendo il filato lo metto qui anche se il mio giro effettivamente finirebbe qua però a noi non ci interessa perché il filato di scarto non è un filato con il quale noi dobbiamo lavorare quindi io continuo a girare indipendentemente da e continuo a girare fino a che automaticamente la macchina non rilascia il progetto come in questo modo assicuratevi che è tutto fuori dagli aghi rimuoviamo la macchina che non ci serve più e facciamo qualche considerazione iniziale allora intanto quando avete il progetto fuori dalla macchina cercate di togliere dall'interno eventuali code perché dobbiamo un attimino tirare sul progetto ok poi cominciamo a vedere se ci sono imperfezioni a volte può succedere se abbiamo imperfezioni possiamo vedere se quelle imperfezioni riusciamo in qualche modo a nasconderle quindi come si fa a fare questo intanto bisogna appiattire il tubo facendo modo che prendiamo qui che è all'inizio che dove avete cominciato il progetto e lo vedete qui quindi alla fine c'è la lana di scarto dove avete l'inizio del filato del progetto e c'è di fatto anche un bel buco che è normale perché ovviamente qui i filati non sono legati e non devono essere legati questo è la vostra metà quindi dobbiamo avere da un lato la parte iniziale e finale del progetto appiattiamo così il tubo e quello che dobbiamo andare a fare è cucire insieme per chiudere il buco però in una maniera in cui la chiusura è piatta per fare ciò intanto andiamo a prenderci questi cosini qui credo si chiamino segna punti in italiano lo segna maglie non so di preciso in inglese si chiamano stitch markers con questi e potete utilizzare qualsiasi cosa alla fine andiamo a marcare la maglia di inizio e quella di fine allora la riconosciamo perché intanto ricordiamoci appunto che il nostro progetto inizia con il nero quindi io vado a prendermi la coda del nero vedo che passa sotto un punto di bianco e poi abbiamo questo punto qui che è da dove esce anche la coda del bianco se io tiro il bianco e tiro il nero vedo che escono da quel punto quindi quello per me è il punto numero uno il punto numero due o meglio quello è il mio punto iniziale del giro il punto finale del giro è quello a fianco una volta che ho identificato da dove inizia il giro e dove finisce faccio modo in maniera che i vari punti siano allineati quindi guardandoli abbiamo i punti sotto e i punti sopra che siano allineati e un'altra cosa che io preferisco fare proprio per cercare di essere il più precisa possibile identificare la metà del tubo è contare i punti abbiamo usato una 48 aghi io su questo lato qui devo avere 24 punti quindi io conto 1 questo è il mio 24esimo punto quindi io sono dall'altra parte alla metà dall'altra parte fate attenzione io sto lavorando su questa fila qui nera di punti quindi avete la maglia di scarto che è quella bianca in questo caso i punti in nero i punti in bianco e poi il resto del nero io sto lavorando sulla prima linea dei punti neri che trovo prendete un uncinetto qualsiasi misura va bene piccola grande spesso ovviamente considerate anche il filato che state utilizzando perché se è un uncinetto troppo fine e sottile potreste avere difficoltà idem se troppo spesso questo dovrebbe essere un 4 mm e mezzo circa non c'è più la misura ma più o meno quelli sono gli uncinetti che utilizzo quindi che andiamo a fare per chi è già pratico di uncinetto presumo questa si chiami maglia bassa no maglia bassissima me lo vado a guardare non ricordo il termine italiano però il concetto è prendete il punto con l'uncinetto il punto che è sul lato più vicino a voi poi andate a prendere il punto che è praticamente al di sopra e lo trascinate all'interno del punto sotto qui dobbiamo alternare quindi adesso questo filo qui questo come si chiama questo punto qui fa parte del lato sopra quindi adesso devo andarmi a prendere il punto del lato sotto e trascinarlo all'interno ora vado a prendere il punto del lato sopra e lo trascino all'interno il punto del lato sotto e lo trascino all'interno quindi quello che io sto facendo è uno zig zag trascinando i punti uno all'interno dell'altro fino alla fine del progetto del tubo prendetevela con calma fate attenzione a non saltare i punti perché se li saltate poi cadono io di uncinetto ne so poco quello che so diciamo l'ho imparato da sola un video di youtube quindi ovviamente quello che so potrebbe non essere preciso la terminologia di sicuro manca perché la maggior parte come spiegato nel video precedente è inglese però diciamo che il concetto lo vedete da sole poi se ovviamente sapete anche lavorare all'uncinetto quello è un bonus perché a quel punto ne sapete ben più di me ora nulla vi vieta di prendere ago e filo e cucire i punti insieme assolutamente quello è un'opzione non è un'opzione comune utilizzata comunemente perché facendolo così con l'uncinetto si ottiene un bordo più rifinito ora nel caso specifico questo bordo viene nascosto da come poi andremo ad unire le due estremità del tubo però qualsiasi altro progetto che mantiene il bordo esposto questo è una finitura diciamo più ordinata e preferibile ora quando arrivate qui i punti ovviamente piano piano si stringono quindi è più difficile anche se con l'anni di contrasto trovarli è per questo che io vi ho consigliato di utilizzare questi segnapunti così che sappiamo esattamente quali sono gli ultimi due perché di solito sono quelli che più facilmente si perdono quindi una volta che abbiamo preso gli ultimi due punti leviamo questi marcatori e poi dobbiamo assicurarci di chiudere il progetto perché altrimenti così si srotola di nuovo quindi prendiamo la coda l'avvolgiamo intorno all'uncinetto e la trasciniamo all'interno dell'ultimo punto ok ora dobbiamo andare a rimuovere questa lana di contrasto questo è stato il nostro inizio progetto e ovviamente io qui non ho utilizzato il trucchetto che vi faccio vedere sotto quindi a questo punto qui per togliere la lana di contrasto o la tagliate però è uno spreco perché questa può essere riutilizzata più volte come lana di contrasto come lana di scarto oppure fate quello che vi faccio vedere io quindi andiamo a srotolare per fare questo dobbiamo intanto identificare il primissimo giro di filo ed è quello che se noi tiriamo da una parte all'altra scorre all'interno di questi punti qui quindi come vedete io tiro e la lana va da una parte all'altra quindi la coda è qua una volta che io identifico qual è il giro giusto tiro il filo per liberare la coda vado avanti qualche punto tiro il filo e libero la coda vado avanti qualche punto tiro il filo e libero la coda il processo deve essere abbastanza semplice se avete resistenza nel farlo o state utilizzando un filato che è tipo lana o comunque un filato abbastanza non so come chiamarlo ma diciamo pelotetto quindi le fibre del filato si stanno annodando fra di loro oppure state tirando sul giro sbagliato quindi non tirate troppo forte fino a che non capite esattamente qual è il problema altrimenti rischiate di fare un nodo enorme e a quel punto lì non avete altra scelta che tagliare il filato di scarto siamo quasi alla fine una volta che avete liberato il primo giro che non è altro che il giro in cui noi abbiamo avvolto il filato alternando gli aghi a quel punto lì una volta che avete liberato questo primo giro non dovete fare altro che tirare sul filato e come vedete si srotola a questo punto controlliamo che non ci siano punti vivi quindi che non abbia saltato qualche punto nella chiusura e mi sembra di no quindi assicuriamoci che il nodino qui alla fine sia ben stretto e questo lato qui è fatto ora andiamo al lato opposto anche qui ovviamente qui adesso abbiamo un terzo filo che era il trucchetto che dopo vi faccio vedere come funziona quindi dobbiamo tener conto anche di quello ma il concetto è lo stesso andiamo a prendere il primo e l'ultimo punto solo che in questo caso qui non abbiamo è il filato rosso che esce fuori dal nero e questa volta qui io spero di riuscirvelo a farvelo vedere per bene in questo caso qui abbiamo il filato rosso che è quello che a noi non serve al momento non dobbiamo lavorare perché non è parte del progetto abbiamo il filato nero che invece è parte del progetto il nostro filato nero sta uscendo fuori da questo punto qui ma diciamo che al di sopra abbiamo un altro punto questo è il punto che dobbiamo tenere in considerazione è questo che è quello a fianco alla prima fila di punti neri che abbiamo che dobbiamo poi chiudere con l'altro di rinpetto che è quello poi da dove esce invece il filo rosso questo qui ok quindi come prima andiamo a contare 24 punti includendo il primo 10 11 12 13 18 15 16 17 19 20 21 22 23 e 24 metto il mio uncino qui giusto per tenere traccia del punto e mi assicuro che il progetto è dritto quindi ci siamo siamo a metà e adesso ripetiamo la stessa cosa quindi prendiamo il punto sotto prendiamo il punto sopra e lo infiliamo all'interno del punto sotto poi andiamo a prendere il punto sotto e lo infiliamo all'interno punto sopra lo infiliamo all'interno alternando i due lati del tubo assicurandovi che prendete ogni punto e lo infiliamo e lo infiliamo e lo infiliamo e adesso che siamo arrivati alla fine prendiamo la coda e lo inseriamo all'interno togliamo i marcatori e adesso vi faccio vedere come funziona questo trucchetto qui per la rimozione del filato di scarpo ora se non avessimo usato il trucchetto anche qui andava localizzata la codina finale però essendo questo il fine progetto qui non dobbiamo andare a cercarci nessun inizio del giro basta semplicemente tirare sulla coda e il filato di scarto si srotola da solo però quando utilizziamo questo trucchetto qui io quello che vi consiglio è intanto andate all'esterno del progetto quindi non da qui ma da qui con uno di questi uncini qui se ne avete uno io vi consiglio comunque di averne uno di questi a portata di mano perché sono veramente torneranno sempre utili andate a pizzicare alcuni punti sfilate la lana ma giusto qualche punto iniziale non serve farlo così per tutto poi ovviamente dipende anche dal tipo di filato che utilizzate ma adesso che io ho rilasciato alcuni punti quello che faccio è prendo una delle due estremità del rosso e tiro ovviamente il progetto si sta arricciando su se stesso ma va bene tiriamo forte però stiamo attenti a non spezzare il filo e come vedete piano piano abbiamo tirato via tutto tutto il rosso quindi adesso devo solo tirare via in blocco il filato di scarto questo ci aiuta semplicemente a ridurre i tempi di lavorazione non è una cosa che va fatto obbligatoriamente però io ve la voglio insegnare e se vi ricordate vi risparmia tempo se non ve la ricordate non fa niente io ad esempio predico bene il razzolo male perché quello è un trucchetto che io ho imparato dopo tanto tempo nel lavorare il solito modo e spesso e volentieri adesso io mi dimentico di utilizzarlo però effettivamente salva una marea di tempo ok ora che abbiamo il nostro progetto diciamo finito nel senso che comunque il progetto è fuori dalla macchina abbiamo chiuso le due estremità adesso dobbiamo unirlo insieme una delle due code la possiamo anche nascondere perché è un po' più corta dell'altra e non ci serve prendiamo un ago e nascondiamo la coda all'interno del progetto ok ora per fare questa chiusura qui a zig zag andiamo a prendere intanto un lato e lo portiamo portiamo i due angoli del lato uno a fianco all'altro così per identificare la metà facciamo la stessa cosa da questo lato qui quindi abbiamo questa situazione ora inseriamo un angolo anzi facciamolo così perché mi serve questo filato un angolo nella metà dell'altro ok quindi questo è aperto cerco di farvelo vedere per farvi capire qual è il meccanismo diciamo che creiamo due B e le stiamo inserendo una all'interno dell'altra poi se vi ricordate prima vi ho detto verificate quale lato ha imperfezioni se ve ne sono perché questo è il momento in cui si decide di nasconderle all'interno del progetto quando noi andiamo a posizionare i lati uno all'interno dell'altro così per fare la chiusura e poi useremo la coda per cucire insieme questi lati qui una volta finita la cucitura noi andiamo a rivoltare il progetto quindi se ci sono imperfezioni questo è il momento di averle sul lato esterno perché questo poi una volta finita la cucitura diventerà l'interno del progetto ok poi potete anche aiutarvi con questi marcatori qui perché potete anche fare così intanto mantenete fissa la posizione dei vari strati poi andiamo a ripescare l'ago che non so più dove l'ho messo prendiamo un altro e a questo punto qui leviamo intanto questo marcatore che non ci interessa più e andiamo a cucire i vari strati facciamo solo attenzione a cercare il più possibile di mantenerci sui punti che abbiamo chiuso assieme quindi cercare di mantenerci proprio allo strato iniziale sopra per evitare che ci sia troppo spessore nella chiusura e niente lo cuciamo normalmente non c'è nulla di speciale da fare in questo caso qui non c'è quando siamo arrivati alla fine prendiamo gli ultimi punti e facciamo un nodo di sicurezza nascondiamo quello che è parte del filato all'interno del progetto tagliamo l'eccesso e poi giriamo lo scaldorecchia e questo è il progetto finito questa è la differenza di spessore tra la 48 e la 40 sono entrambi valide misure per adulti questo ovviamente va anche bene per bambini più piccoli basta farlo un po' più corto però questa come misura per adulto è perfetta poi da lì diventa una preferenza a gusto personale quindi in questo progetto qui abbiamo imparato a utilizzare la lana di scarto quindi abbiamo anche capito come e perché viene utilizzata la lana di scarto e abbiamo cominciato a fare il cambio colore premesso che ci sono comunque tecniche un pochino più avanzate non sono complicate però un pochino più avanzate di cambio colore che aiutano avere una rifinitura più pulita e professionale lì dove il cambio colore è più frequente nel progetto quindi se noi avessimo fatto un progetto diciamo a strisce quindi ogni 5 giri era un cambio colore era opportuno utilizzare un'altra tecnica per evitare di vedere lo sbalzo del cambio colore ma non è obbligatorio diciamo che sono solo rifiniture che si acquisiscono con la pratica ma che comunque lo vedremo poi nei prossimi video però intanto questo è il progetto su come lavorare un tubo piatto per fare uno scallo orecchie e l'utilizzo della lana di scarto spero che il progetto vi sia piaciuto spero che siete rimasti fino alla fine io vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato se avete suggerimenti, richieste, dubbi lasciate un commento vi voglio ricordare che ho creato un gruppo facebook dedicato a utenti italiani quindi se volete aderirvi volete unirvi al gruppo io ve ne sarei immensamente grata perché l'intento appunto è di creare una community di italiani che condividono la stessa passione per questo craft vi lascio il link sotto nella descrizione e poi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti ciao ah, un'ultima cosa se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale così vi venite notificati ogni qualvolta c'è un nuovo video ciao 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 ciao